Grazie a tutti. Qualcosa c'è nato Fernanda ma ce ne sono altre molto interessanti che ci puoi spiegare tu. Certamente. Intanto devo fare un plauso all'associazione La Casa di Argo perché oggi come oggi voler gestire un canile non è una cosa semplice con le ristrettezze economiche che ci sono. I cani costano, i cani hanno la loro sensibilità, i cani devono essere trattati umanamente. Purtroppo si verifica troppo spesso questo abbandono dei cani che ricordo a tutti quanti è un reato penale, quindi perseguibile penalmente. E invito tutte le persone che ci ascoltano a evitare questo abbandono degli animali, soprattutto dei cani perché è veramente una dimostrazione di insensibilità. Vorrei vedere se fossimo noi al loro posto, cosa ne penseremmo. Quindi invito ancora una volta la gente a essere molto più sensibile verso questo argomento. Poi per quanto riguarda le novità, è un'idea che mi frulla nella testa già da un paio di anni. So che esiste nella città di Reggio Calabria, ma vorrei portare questa idea anche al mio paese, cioè il cimitero degli animali. Penso sia un'idea di civiltà perché tanta gente ha difficoltà a dover cercare di seppellire un animale, ci vogliono delle autorizzazioni particolari da parte del laser, quindi assistenza, delle spese piuttosto elevate. Quindi avere un cimitero, penso possa ridurre le spese, penso possa essere un punto di riferimento non solo per nocere ma anche per il circondario. Ancora questione igienica penso, perché magari le persone molto spesso abbandonano le carcasse o comunque seppelliscono quella. Invece questa è una questione anche di civiltà a livello anche di sanità. Esattamente, perché troppo spesso non ci sono le autorizzazioni e richieste, quindi la gente va ad abbandonare le carcasse benché vada sottoterre, magari in qualche falda acquifera che poi va a finire, non so, in qualche sorgiva e potrebbe addirittura recare danni molto, come dire, danni consistenti alla salute pubblica. Quindi è un bene che possa nascere questo cimitero. E dall'altra parte poi mi pare che c'è anche la campagna di sensibilizzazione di cui parlava prima Fernanda. Sì, questa è un'opera importante perché magari il territorio di Nocere Tenese è vasto e quindi sensibilizzare la gente in tutto il territorio è una cosa importante. Quindi noi ci attiveremo come Comune, come amministrazione comunale a diffondere appunto questa iniziativa lodevole da parte dell'Avvocato Gigliotti e di tutto l'entourage, tutti gli iscritti a questa stagione, che invito, anzi, le persone a iscriversi in numero ancora maggiore perché più persone ci sono e più è facile poi la gestione. Quindi invieremo tutti i messaggi alle persone che stanno nel centro storico, nella Marina, nelle contrade e poi più in là con la collaborazione anche dei Comuni Limitorfi possiamo sensibilizzare anche nel territorio adiacente alla Comune di Nocera. Tra l'altro Fernanda prima accionnava anche la vostra disponibilità come Comune a dare una sede dove potrebbe avvenire poi la sterilizzazione di questi cani randaggi. Quindi il Comune di Nocera ancora di più è disponibile verso non solo i padroni ma verso anche gli animali? Certo, credo sia il minimo che possa fare un'amministrazione. Io ho un cane quindi la mia sensibilità verso i cani è elevata, altissima. Ecco perché applaudo questa iniziativa. Mi impegnerò a mettere a disposizione questa stanza per le cure, per la sterilizzazione ma soprattutto quello di trovare un terreno dove si possa costruire questo canile che non deve essere, come ho sentito, un lager dei cani. Sì, parlava di un ricovero Fernanda dove dare assistenza momentanea a questi cani per poi darli a chi magari li può accudire ed eventualmente farli sostare temporaneamente. Certo, poi un cane che viene curato magari ha più facilità di essere collocato verso un privato, verso un cittadino che magari lo vede in una fotografia, se ne innamora, se lo può portare a casa e continuare a custodire e allevarlo. Perfetto, da Nocella Tarinese quindi con questo segno di civiltà di Rino Rocca del sindaco di Nocella Tarinese, quindi tutta la giunta del comune di Nocella Tarinese, speriamo appunto che si evolvano ancora di più le cose e ve lo faremo sapere tramite appunto la pagina Facebook che ha detto poc'anzi Fernanda. E nulla, ringraziamo ancora il sindaco per la sua disponibilità. Grazie ancora. Grazie a tutti voi.